Il Mediterraneo, secondo il Ministero dell'Ambiente, è sempre più caldo. La temperatura media potrà crescere fino a 2,3 gradi ed è destinato anche a salire di 19 centimetri entro il 2065. Siamo davanti a una crisi climatica globale. Oggi abbiamo più di 60 morti per il gelo negli Stati Uniti, ma il bilancio, secondo le autorità americane, sarebbe destinato a salire quando neve e ghiaccio si scioglieranno facendo emergere altre vittime. Mentre l'Europa occidentale e soprattutto l'Italia viene attraversata da un'onda di calore. Il CNR registra le più alte temperature dal 1800. La crisi, ci dicono da decenni gli scienziati, porta con sé eventi estremi. La destabilizzazione dei processi naturali è alimentata dal consumo dei combustibili fossili come metano, petrolio e carbone. E lo sappiamo da tempo, già nel 1968, una ricerca commissionata dall'American Petroleum Institute all'Università di Stanford informava sui danni all'ambiente legati al consumo del petrolio. La CO2 in atmosfera, prodotto diretto della combustione, è arrivata a 415 parti per milione dai poco meno di 300 del periodo pre-industriale. Questo gas trattiene il calore del sole in atmosfera, producendo l'effetto serra. Gli eventi estremi si ripetono con sempre maggior frequenza. Alle siccità seguono i nubi fragili e in un paese come il nostro, che è bello ma fragile, questo causa morti, feriti e danni per milioni. E i problemi per l'agroalimentare legati alla siccità. Un Natale caldo, quindi, non è sinonimo di bel tempo.